Ciao a tutti, sono Ale008 e ora faremo su Fortnite la gita al museo dei dinosauri. Ecco il primo, non so cosa sia, ed è molto grande, un collo lungo. Va bene, filo, non passarci sotto, ho una banana che ha un piccone addosso. Il tirannosauro su Rex, ragazzi, guardate la sua fama, fama, fama. Ok, ok, dai, c'è un altro, mi sa. E ecco il rinoceronte. Perché c'è un rinoceronte? Lo so. Ok ragazzi, questa qui era la gita al museo dei dinosauri su Fortnite del canale Ale008. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, ciao. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. But I'm happy you. Questo è un mapa di GTA.